un medico un poeta un artista 360 gradi inaugurata sabato sera al circolo nautico di torre del greco la mostra di pittura di giovanni damiano già noto al pubblico torrese per le numerose pubblicazioni di volumi di poesie i suoi dipinti raccontano l'umanità l'uomo sofferente e nei paesaggi rappresentati ritornano i ricordi di infanzia i suoi quadri che cosa vogliono raccontare soprattutto delle emozioni emozioni cromatica e vogliono raccontare soprattutto quello che a me interessa l'umanità che c'è dentro le persone perché io faccio soprattutto ritratti anche autoritratti ma soprattutto ritratti quindi a me interessa l'uomo interessa soprattutto l'uomo sofferente perché la sofferenza dà molta più sostanza alla persona invece l'allegria ad ogni costo denota una mancanza di spirito e un vuoto dentro quindi per me è molto importante la sostanza e la sostanza è data dalla dalla sofferenza che ti costringe a pensare dentro di te quello che sei a chi è rivolta questa mostra ma in realtà a tutti quelli che amano l'arte perché e che amano la bellezza perché non è che il brutto non sia interessante il brutto è bello quanto è rappresentato artisticamente e quindi io voglio anche dire che da autodidatta ho raggiunto un certo un certo livello voglio dire che se c'è una passione e io non solo ho avuto una passione ma addirittura era quasi un'ossessione per me dipingere alla fine lavorando si conquista anche la tecnica e poi si deve andare avanti liberamente senza costruzione di scuola perché se no si diventa professore di disegno punto e basta. Da quanto tempo hai iniziato a dipingere quanto tempo ci ha messo a presentare i quadri di questa mostra? Io ho dipinto da sempre posso dire io ho fatto centinaia e centinaia di quadri adesso che sono stato invitato a fare questa mostra ho recuperato tutti i quadri e ce ne ho ancora centinaia e centinaia da esporre e che voglio in questi miei ultimi anni voglio dedicare il mio impegno a esporre questi quadri a portarli anche un pochino in giro a parlare di pittura con i ragazzi che hanno un minimo di talento e un minimo di passione per l'arte la pittura in particolare. Il suo invito alla cittadinanza a venire a vedere questa mostra? Quando il nostro lavoro viene visto dagli altri e viene apprezzato è uno stimolo a continuare è uno stimolo un conforto ed è uno stimolo a continuare ad andare avanti perché se no ci sentiamo se no ci sentiamo possiamo sentire che il nostro lavoro non vale e quindi onestamente ci comporterebbe questo a smettere cose che io non voglio fare quindi spero che venga molta gente e spero che sia anche un giudizio positivo. Presente alla serata il critico d'arte il professor Antonio Davide Madonna che ha saputo cogliere al meglio l'essenza della sua arte. Per quanto riguarda le opere del carissimo dottore Giovanni Damiano c'è da fare una distinzione in essi infatti è possibile riscontrare due filoni principali. Da un lato vi è l'attenzione nei confronti dell'uomo in quanto tale dell'essere umano di quelli che sono i suoi sentimenti e quindi la sua capacità non solo di rappresentarlo al contrario quasi di scarnificare la figura per giungere fino al momento in cui lui ne estrae anche l'anima. Dall'altro poi invece abbiamo quelli che sono dei deliziosi se è possibile nel mondo contemporaneo ancora usare oggi questa parola paesaggi che rievocano in modo elegiaco e nostalgico quello che è il suo mondo dell'infanzia quindi non una pittura rivolta all'essere umano ma una pittura che sicuramente si indirizza verso altri lidi e che fa del ricordo della piacevolezza della dolcezza dei toni utilizzati il suo punto di forza. Per i visitatori che verranno nelle prossime settimane o comunque ad un occhio più profano che cosa ci si aspetta di trovare? Quando si osservano queste opere si ha una sorta di dialogo attraverso interposta persona che ci fa conoscere l'intimità di chi è il ritratto e dall'altro invece abbiamo la possibilità di ricostruire la biografia di questo uomo eccezionale non solo medico ma anche poeta e anche pittore il quale ci svela forse la parte più intima più riservata del suo essere attraverso quei paesaggi di cui parlavamo in precedenza e che si rappresentano in maniera magnifica quello che è il suo mondo dell'infanzia. Non è mancata l'affluenza di pubblico e riconoscimenti all'artista. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 31 dicembre. Grazie a tutti.